attenzione bella ragazzi sono Luque e oggi siamo qui con questo nuovo pack opening in occasione dei pacchetti da 25.000 crediti come pensavete oggi è uscito il team of the tournament con gli aiadure come copertina un ottimo aurere, un ottimo aglio e inoltre ci sono Hatsu e tantissimi argentoni oggi sono usciti i pacchetti da 25.000 e proveremo la fortuna spendendo circa 100.000 crediti quindi 4 pacchetti come sempre vi invito a passare da Vipo e FIFA per acquistare i crediti abbiamo avuto una grande novità ovvero il 5% di crediti in più se userete il codice coupon malati15 quindi la tassa completamente coperta partiamo subito con il primo pacchetto tentiamo la fortuna dopo la giornata sforzata scartiamo Kiko Casiglia, Jose Enrique e Rotas partiamo subito male scartiamo tutto apriamo subito il secondo pacchetto dai Howard dai regalaci una gioia attenzione saltiamo Mandzukic, Piszek dai ragazzi dai questo non è male questo non è male Piszek penso che sta intorno ai 10.000 ci accontentiamo per il resto scartiamo tutto andiamo subito con il secondo pacchetto dai David dai portaci fortuna attenzione ragazzi saltiamo Olson Tivrak e Ritir anche questo possiamo benissimamente scartare tutto ultimo pacchetto da 25.000 crediti dai Gonzalune dai Gonzalune Nasri Gozze Gozze va bene così ragazzi va bene così allora inviamo Nasri alla lista di trasferimenti penso che 2.000-3.000 crediti vale e inviamo Gozze che si aggira attualmente sui 15.000 assegniamo tutto automaticamente ci rimangono 15.000 crediti così e apriamo due pacchetti da 7.500 penso che comunque questo pacco per invece è andato bene ma non troviamo un cazzo cacciatore poteva uscire allo stile in tesa almeno conserviamo nel club ultimo pacchetto e vi saluto attenzione dai David dai regalaci un altro gozze schifo tutto schifo forma fisica la teniamo e ragazzi anche questo nostro pack opening è finito vi invito di nuovo a passare da VIP o in FIFA se volete acquistare i crediti con prezzi bassissimi e usando il codice coupon malati15 avrete il 5% dei crediti in più bella grazie a tutti